Salve ragazzuole ragazzuole, è qui il vostro palaz che vi sta parlando e siamo qui con un nuovo gameplay Con la seconda puntata o secondo episodio di Let's PC Games Questa qui, ripeto per quelli che magari non hanno visto il primo video, è una serie che forse solamente per divertimento Magari non di giochi per PC come Call of Duty ma per giochi semplici che si possono trovare su internet Magari serve solo una semplice registrazione e poi via, ci si può divertire quando si vuole Questo gioco si chiama Happy Wheels ed è un gioco che ho scoperto da stamattina forse Devo dire che è un gioco veramente spettacolare perché ti diverti, non solo io penso, veramente tantissimo Faccio un esempio, vi faccio vedere un po' di livelli e poi sarete voi a giudicare com'è questo gioco Oh il nonnetto col nos, mamma mia Vai nonnetto Bello, si, ho fatto un bel salto nonnetto eh Facciamo livello Perché quello lì è sull'X6 e io devo trovarmi sull'X6? No, mi ha seminato Mamma mia il vecchietto invincibile con un 720 Le ho l'ho finito, 4 secondi e 83 millesimi Vai, exit to menu, proviamo un altro gioco BMX Park 2 Play now Now Vai, vada il bimbo dietro, no che figata è Bello Mamma mia E riesce a superarlo, l'uomo invincibile Vai Palaz, vai Palaz, vai giù nel tunnel Più di velocità, attenzione Se lo fa tutto lui Mamma mia è invincibile Ancora lui Forse, forse sono sti qua più a letto Anche se fossero spade C'è saltino della morte No, il bimbo dietro Mi stanno partendo le cose il bimbo dietro Mamma mia, guarda Olè, gli ha partito tutto Ma riesce a finirlo 36 secondi e 56 millesimi Mamma mia Questo qua ragazzi, pensate Cioè, vi faccio un esempio Pensate a magari a Un gioco Magari pensate che Il personaggio qua Via, Happy Wheels È la persona che vi sta più sulle palle al mondo E fatela distruggere dovunque Questo qui non so che cos'è Anche perché è la prima volta che lo faccio a questo livello Jet fail Mi sono cagato addosso Ah, devo cadere Guarda il bimbo come si sbatte Mamma tutto Ma cos'è Attenzione La bici può andare avanti da sola No Una finta Menu Restart level Vai palaz Che sei un boss Spero ragazzi che vi piacciono Questi episodi Che sto facendo Su questi giochi Perché continueranno Non so Quanti episodi Arriverò Ecco Senza bimbo Frega te del bimbo Anche se magari è tuo figlio Via Mamma mia Epic Jump Mamma mia È un boss questo qui Senza un abbraccio Senza un abbraccio Vai Fa niente Insisti Tu c'è un boss Vai Che è sto coso qua Tutto con questi Questi quadratini È infinito Beh Andiamo avanti Poi ragazzi È veramente facile come gioco E Oltre che divertente Perché Devo dire che Se mi diverso un botto Via È finito Oh Victory 43 secondi E 80 millesimi Ragazzi per oggi Per questo mini Gameplay possiamo dire Finisce qua E Faccio un augurio a tutte le mamme Perché oggi ovviamente La festa è la mamma E Vi dico Un buon fine settimana E Bella a tutti Di Ciao a tutti Grazie a tutti.